Ughetta Fabris, responsabile CNA Industria e CNA Produzione di CNA Reggio Emilia. Sono qui per illustrarvi il nuovo servizio dedicato ai marchi e brevetti che abbiamo pensato per sostenere il business nelle nostre imprese che vogliono registrare o avere maggiore informazioni su marchi e brevetti che sarà eseguito da uno studio, lo studio Corradini, specializzato in proprietà industriale ed intellettuale a cui si unirà la consulenza di CNA dell'ufficio Bandi e di Prefina per avere un check-up personalizzato per recuperare le spese, un check-up sui bandi dedicati e sulla sostenibilità delle esigenze economiche e finanziarie per reperire fondi a cui si unirà una newsletter personalizzata e una consulenza gratuita telefonica. Tutto questo per le nostre imprese, per migliorare il loro business e per sostenere nuovi prodotti o servizi.